If you wanna live and I'll be so lonely If you're in baby let me down slow Let me down Musica Buona a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video di minecraft Dopo tanto tempo siamo qui con il quarto episodio L'ultimo episodio è stato per l'appunto la live Però non contiamo Non la contiamo per l'appunto tra gli episodi Siamo qui nel quarto episodio e oggi raga andremo a esplorare il nether Ebbene si raga E' uscita la nuova versione 1.16 se non mi sbaglio Ci sono i villaggi nel nether Cosa fighissima Intanto raga andiamo a dormire che vi devo far vedere tantissime cose Ma proprio tante 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 Eccoci qua raga abbiamo dormito Intanto laggiù vedo dei piccoli villager Pilla ce volevo dire ma le lasciamo stare Abbiamo dormito raga Pronti ecco qui il nuovo giardino raga Spero vi piaccia Ho aggiunto un botto di dettagli come potete vedere Qui ci sbocca c'è anche la carne Fighissimo Qui ho migliorato per appunto l'orto Eccolo qua Molto molto più pulito Questo qui raga se non l'avete visto Vi lascio il link in descrizione Se magari oppure qua sopra nelle schede cliccabili Se vi fosse interessare la live dove siamo andati i migliari Abbiamo costruito il ponte Quella barchetta qui che non scappa perché c'è da quelle cose lì Niente questo qua raga è il giardino Abbiamo messo qualche lampione Qui è dove andremo per l'appunto a mettere il portale del nether Raga poi migliorerò ovviamente con i blocchi del nether Non vi preoccupate qui ci sono due buchi Che andremo a sistemare al più presto E... beh Questa qui è la casa Raga so è brutta Cioè nel senso potrei fare di meglio Magari utilizzare dei blocchi diversi Ma per ora la lascio così Anche perché raga ho fatto in 3 secondi Giusto giusto per abbellirla E prima era piatta Quindi ho preferito far così Qui saliamo andiamo al secondo piano Ecco qui la camera da letto Ci sono le nuove catene nella versione 1.16 Eccola qui E questo qui è il piccolo balconcino Che visiona per l'appunto tutto il nostro giardino O comunque tutto il nostro fuori Casa molto semplice Raga non è niente di che E direi di andare subito raga A cercare di farmare con questo piccone diamante Un po' di ossidiana Vi faccio vedere anche dall'esterno com'è Spero vi stia piacendo comunque come sto organizzando Raga state tranquilli che anche se non facevo episodi Io comunque andavo avanti a giocarci sempre a minecraft Perché comunque è un gioco che a me mi appassiona abbastanza Perché ci sono cresciuto E quindi sì è così Ovviamente raga la modellerò molto molte 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 volte Ci metterò il camino Farò la cucina Insomma la bellirò La bellirò raga Io direi di andare subito in miniera Cercare un po' di ossidiana Andiamo a farci supportare Entriamo nel nether Let's go Eccoci qui raga Sto raccogliendo l'ossidiana Intanto raga vi ricordo di Iscrivervi al canale Attivare la campanella Se magari volete altri video Per l'appunto di minecraft E ricordatevi anche di lasciare Un bel pollicione all'insù Fatemi capire che con un bel like Se comunque la serie vi può interessare Proviamo ad arrivare dalla butto lì A 60 like Non è nemmeno tanto Quindi raga Dai confido in voi Anche perché Se vedo che comunque Ci sono tanti visual Tanti like Ragazzi siete tranquilli Che Che continuerò E presterò più attenzione A questa serie di minecraft Che la porterò avanti Spero il più possibile Ossidiana raccolta Raga Siamo intanto in posizione 666 ma va bene così E Andiamo a Farci questo portale Andiamo a accenderle Guardiamo un po' dove spawniamo Spero di abitare vicino O a una fortezza Oppure a uno dei nuovi villaggi E niente Raga non ho la felce Mannaccia Miseria Accidenta Suini Dov'è qui? Eccolo Dammi la gaia Metti Leva Metti Leva Metti Leva Metti Leva Ci vediamo quando Avrò un pezzo di felce Ossia adesso Bene E' stato più veloce del previsto Eeeh Facciamo questo accendino Vai Almeno diamo fuoco Diventiamo dei cazzo di piromani Eeeh Raga andiamo a farci questo portale Raga non vedo l'ora Non vedo l'ora Ho tutto lo corrente Il cibo ce l'ho C'ho tutto Magari una spada Forse sarebbe meglio farla in diamante Senti Facciamoci una spada in diamante Vai E let's go Raga Piccozza e Spada di diamante Raga Bisogna Inaugurare questa spada di diamante Quindi direi di Ma no Vieni qua Oh Dov'è? Dov'è? Suino Vieni qua Madonna ragazzi Dove cavolo scapi Vieni qua Guarda ti piglio eh Madonna Buona Guarda guarda Che braciola Dio buono Dai mi apri la braciola Vai Tac 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 Dovrei entrare l'equipo qui dentro Quindi facciamo così Ok È arrivato il momento Tanto atteso 3 2 1 Boom Incredibile Portale del nether Bellissimo Raga Ci buttiamo Let's go C'ho paura Raga C'ho paura C'ho paura C'ho paura Ok 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 Siamo Tanto alti Ma che cazzarola Sono questi blocchi Raga Magma blocco Ok Dimmi che c'è un villaggio vicino Ti prego Che lo voglio Right now Proprio Tanto questo fuoco Non mi tranquillizza per niente Quindi grazie Ma no Che bello Che bello Mi mancava il nether Che emozioni Oh Eh Te vareva Bucchina A mamma Oh Niente Sprecare Proprio Roba gratis È proprio il mio lavoro Cazzo Prendiamoci il quarzo Insomma Lutiamo un po' Appena vedo qualcosa Magari di nuovo Qualche materiale nuovo Raga Ve lo faccio vedere E almeno Vi faccio sapere anche a voi Quali sono i materiali Che hanno aggiunto E Niente Lutiamo Lutiamo il più possibile Raga Perché io non so Quante volte Entrano nel nether Per esempio Fatto raga Che io Non sono Un cazzo Sicuro In questi posti qua Eccolo raga Eccolo qui Nuovo minerale Oh Oh L'orgione no eh Oh Why you Aspetta manco Un ma Mia Raga ma c'è il Big suino Guarda guarda L'orecchio Ma Onna Lezzo Guarda Guarda l'orecchio Guarda brutto Proprio Che brutto Regà Il big suino Il swingman Dang Che cosa so raga Ah ma Semplicemente Pepita d'oro Ma belino Ma raga ma Questa è una cazzo Di farm di oro Il nether raga Se volete l'oro Basta che andate qui E farmate Bellino raga L'idea c'è Non è male Anche perché raga Come ben sapete I pigman Sono una Grandissima farm di oro Magherite Mattevareva Oh Ho ucciso Oh Gesù Mori Regà C'ho una mira Madonna Quasi quasi Sono più bravo a Fortnite Con la mira Mamma mia Io intanto Regà Per non sapere né leggere Né scrivere Mi uso tutto Quello che trovo Senza proprio scrupoli Quindi tutto mio Grazie E E niente Quando avrò Un bel po' di materiali Da parte Ci rivecchiamo Alla prossima clip A questo punto Dai Oppure quando Tipo sto per morire Perché Probabilissimo Via Muori merda Muori 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 Grazie Oh bella Quella Spammino Spammino Vai Spammino Anche su Minecraft Vai Spammino Anche su Minecraft Vai Spammino Anche su Minecraft Sì 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 Spammino Maonna Perfetto No No Vieni qua Brutta merda Vieni Fa paura E Finocio Non ci venire più Non ci devi venire più Ci siamo Anchiariti Non ci devi venire più Ma Mi ha capito Via Tu sei Scemo Madonna Che cazzo È quel Cosa Che cazzo So Questi Cosi Oh Che cazzo È Ma Sei bruttissimo Fra Fra Sei bruttissimo Oddio Mio Quanto Brutto È Riga Ma Se lo Killo Vieni Ti incazzi Te Laggiù Ok No Si incazza Solamente Lui Ok Riga Ma Sono Bruttissimi Sti Qui Va Va Riga Io 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 Non lo so Assurdo No Ti devi Leva da Coglioni Bada Bella Questa 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 Roba Fì Riga Lo posso Prendendo Lo sto Prendendo Si Riga Madonna Figo Riga C'è Troppo Bello Mi sto Amozzonando No Oh C'è uno Incazzato Riga Non so Che cavolo È Oh Ti cazzavo Oh Ma che cazzo È Riga Cazzato Guarda Guarda Lezzo Proprio E guarda Ti creco Male Madonna Un Cazzato Senti qua Che maiali Madonna Mia Che maiali Guarda Viste Guarda Viste A poltrire Qui Ma crepate Male Vai Mandate Di sotto Vai Babuini Vabbè De raga Con un bel bottino Direi possiamo Tornare tranquillamente A casa Devo essere sincero Non ho troppo Niente di che Però Veramente Tantissimi materiali Fighi Da utilizzare Riga Ecco qui Non è male Queste possiamo Vabbè Queste se facciamo Riga Quindi ragazzi Resoconto Finale Di tutti i materiali E dell'esplorazione Di oggi Allora Abbiamo Tre Creme Di magma Quindi tre palli Di magma Ben Quasi Due stack E mezzo Quindi quasi tre stack Di quarzo Abbiamo veramente Tantissime pepite d'oro Poi abbiamo un po' Di polvere Di luminite Vabbè Il nether La roccia del nether Ci sta Il basalto Raga Un nuovo materiale Onesto E anche questo Di basalto Eh si Allora questo se facciamo Facciamo così Abbiamo Pietra nera Raga Io Le scopro insieme a voi Perché non l'ho mai Non l'ho mai visto Questi materiali Quindi pietra nera Ok E infine Un blocco di magma Direi Onesto Onesto Raga Dormiamo E direi Raga Di andare Per appunto A bellire La nostra La nostra Caverna del nether No Quella lì Dove abbiamo messo Il nostro portale Quindi con i blocchi Quelli lì Muschiosi Li andremo a sostituire Da con questi blocchi qua Direi di andarci subito Aspetta Ok Questa qui La andiamo a mettere Per esempio qui Uno due Qua Perfetto Direi anche Di andare a posizionare Magari una crafting table Messa per esempio Qui In modo tale Che possiamo craftare Quella che vogliamo Ci craftiamo Due illuminiti Tanto per Una qui Una qua in cima Le torti Vabbè le lasciamo Poi cosa abbiamo preso Abbiamo preso il quarzo Per esempio Un blocco di magma Il blocco di magma Ci sta Potremmo mettere Per esempio lì Che potrebbe fare un po' di luce Ci potrebbe stare E infine Un blocco del nether Eccola qui Andiamo a mettere Per esempio Intorno al portale Ok raga Questo qui è il risultato Per ora Ovviamente tutti i blocchi nuovi Che andremo a trovare Li andremo a mettere qui Ho messo una cesta Ho fatto Ho incastonato Diciamo il portale del nether E ho messo Queste quali leane Speriamo che crescano Almeno raga È come se ci fosse Tipo una barriera Che si vede Ma non si vede Dai possiamo dire così Andiamo a vedere adesso Che funzionalità Hanno per l'appunto Questi blocchi Allora Beh un waz No aspetta Aspetta C'è questo qui Che andremo a craftare Sono curioso di vedere cos'è Pietra nera Leviga Tabellino sarebbe questo Raga Craftiamoci anche questo E Ah vedi 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 ganzo Raga Vero vero Figo figo Raga ci sono i blocchi I blocchi da craftare Bella la pedana a pressione Nera raga Molto figa Questa com'è che si fa Beh l'ho fatta A caso Raga fighi fighi Facciamoci qualche slab Vai facciamoci Una slab di qua Una slab di qua E E basta Dai va bene così Questi qua raga Per esempio Stanno bene qua Sembrano tipo dei pilastri No Bellino così Su me ci sta raga Scriveretevi sapere poi dopo voi Nei commenti Se magari vi potrebbe piacere Mettiamo qua Ecco qui l'ultimo Ok la roba che avevo droppato Intanto liberiamoci un po' Di l'inventario Di tutte le cose Che magari non ci possono servire Per ora Un po' di slabettine Le mettiamo una qui Ne mettiamo un'altra di qua Delle slabettine Magari anche per salire Che non sarebbe male Quindi facciamo una qui Ne possiamo mettere anche una qua Dai ci stanno Raga ci stanno un brotto Secondo me Una qui Da fuori a meno Raga non sembra nemmeno Sembra tipo una colletta Ma poi raga Quando entrate Boom Il casino Più totale Raga L'inferno assoluto Ci sta Non vedo l'ora che crescono Queste leane Almeno raga Sarà ancora più figo L'effetto E Cos'altro abbiamo Beh direi niente Direi più niente Da provare Fatemi vedere Se ci sono altre cose Figo questo raga Bellino Subito craftato Raga ovvio Le cose nuove Bisogna craftarle Per provarle Ovviamente raga Perché sono veramente fighe Queste qua Queste qui mi piacciono Eccoci qua Alla fine di questo video Raga Sono andato a depositare Tutte le cose Nei posti Nei posti Ovviamente opportuni Io spero vivamente Questo video vi sia piaciuto Almeno un'informazione Sul nuovo aggiornamento Anche magari Della versione 1.16 Di minecraft Mi raccomando Beh poi ci sono in su Raga Prima di arrivare a 60 like Ve l'ho già detto Prossimo episodio a 60 like Vi ricordo anche Di iscrivervi al canale Di attivare la campanella Per non perdere nessuno I prossimi video Noi ci becchiamo Nel prossimo video Di minecraft O di fortnite O altrimenti In una prossima live E Bella raga Bella bella Ciao raga Ciao 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 Ciao